I nostri operai hanno lavorato sodo, siamo pieni di banconotte e di documenti falsi da vendere Speriamo solo di non fallire come la volta scorsa E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph e che se giochiamo a GTA V E siamo tornati nella nostra fantastica serie dell'online In questo episodio in particolare ci dedicheremo al nostro bellissimo Motorcycle Club Che ultimamente abbiamo leggermente trascurato Esattamente, però sarà un episodio davvero interessante Dato che ci siamo, diciamo, preparati questo episodio Abbiamo preso tantissime scorte per le banconotte e per i documenti falsi Quindi abbiamo tantissima merce da vendere Proveremo a vendere sia le banconotte che i documenti falsi e vedremo come andrà Però il posto delle banconotte false ancora non l'abbiamo mai fatto vedere E oltretutto anch'io non l'ho ancora visto Esatto, l'ho visto solo io Quindi facciamo un mini tour Come puoi vedere questa è una bellissima produzione di banconotte false Wow! Forse li conta la signorina Li conta? Questa è la macchina per contare E fa le pile di soldi Questo almeno lo so Ok Questa è tutta la nostra produzione di soldi Siamo strapieni Infatti abbiamo 35.000 dollari da vendere che non sono per niente pochi Sei pronta a venderli? Assolutamente sì In questa sessione prima di play ero un po' pazzerelli Gli ho già visti fare cose strane Quindi non vorrei che ci attaccassero subito Ma speriamo bene Vendi merce 52.000 se li vendiamo a Fox & Enterprise Non lo sai che sono sempre difficilissime con le missioni Per questo non le vendiamo proprio a loro Vuoi proprio rischiare? Sì Non so se è una buona idea ma ci proviamo Speriamo bene Io ho paura perché l'ultima volta che abbiamo scelto quella più difficile è andata a prendere mai Dobbiamo portare a termine diverse vendite con acquirenti diversi pure Quindi per fare consegne dovete dividervi Per fortuna avete le vostre motto Dico bene? No Sinceramente non ce le siamo apportate Indovinate un po' Ci vogliono far arrabbiare E neanche abbiamo iniziato il video Siamo già arrabbiatissimi E' arrivato un tizio con un caccio Quindi neanche ci potevamo fare minimamente nulla Esploso uno Esploso l'altro Sono zitta perché sto per piangere Cioè Dal nervoso però Dal nervoso Perché non è giusto E secondo me pure casualmente con quel dannato caccio Non aveva intenzione di puntare a noi Però ci siamo incrociati Cioè anche perché Cioè cosa fai? Cosa fai se ti sparano con un caccio? Cioè cosa fai davvero? Ti nascondi sotto terra? La danza della speranza Cioè cosa devi fare? Devi invitarmi Sì pure perché sono morta Lo sai che ogni volta mi devi rinvitare Per le banconotte? Ok Andiamo a prendere altre scorte E rifacciamo la produzione Per i documenti falsi Cerchiamo di farcela Comunque 32.000 di documenti falsi Io avevo farmato davvero tanto Questi dannati inglesi No aspetta aspetta Non ci possono rovinare tutto Sì Annullo subito Mi devi invitare prima Perché se no non posso partecipare E' scomodo sto gioco Ok Però se non te lo ricordo Non è possibile che ogni volta ti devo rinvitare Poi lo devi fare da solo Quindi pazienza Invitami di nuovo Ok ci sono Ok grazie Computer per favore Dici che la possiamo vendere per 100.000 Che non c'è nessuno che ci vuole ammazzare Ok? 48.000 Dai l'altro era 52 Quindi va bene uguale Assicuro di avere abbastanza membri Prima di cominciare questa missione Sei sicuro di voler vendere la merce prodotta da questo stabilimento? Sono sicurissimo Steph e Ferenichi sono pronti a morire nuovamente E perdere tutto quello farmato in tante ore di gioco Comunque io lancio non un hashtag ma una proposta Ok Ci armiamo di tipo 20 consolini Che ci proteggono e voglio vedere se così riescono ad ucciderci Perché da tanto dicono A lanciarazzi dici Assicurati di avere abbastanza persone Io questa missione la faccio con 50 consolini E schiero i consolini contro gli inglesi e contro la Russia Dato che su GTA giocano solo i russi Ok E contro la Russia Va bene quindi consolini versus Russia Esatto Come su Roblox consolini versus inglesi qua contro la Russia Io nemmeno mentre stavo leggendo quello che dobbiamo fare Dobbiamo fare 15 consegne in 30 minuti Prima di tutto dobbiamo arrivare dove ci hanno detto di andare Esatto Di conseguenza secondo me arriviamo lì e poi ci dividiamo con due veicoli diversi Iniziamo a consegnare nei punti della città Esatto Sì allora qua c'è una bella macchinina Guarda questa bianca mi piace abbastanza Scusi signorina Ci serve in prestito Poi le giuro che le riportiamo a casa Quando diventeremo ricchi con il nostro commercio di banconate false Esatto E documenti falsi Torniamo subito grazie Oh no Due episodi di fila che dobbiamo andare in giro in barca Ma non è possibile Pepepepe e rinichi Non mi viene un hashtag scusa Terribile Volevo dire qualcosa di simpatico Che figuraccio incredibile Come lo possiamo dire? Ma dai ma sono finita in acqua Ma cioè mi sono fidata di te No 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 aspetta 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 così La nostra merce è visibile adesso a tutti i player Quindi stai pronta a divertirti ok? Ok Spero che almeno in barca ci lasciino in pace Sappi che gli ultimi 5 di consegna sono nella terza barca Quindi nel caso uno dei due Poi deve tornare e fare anche gli ultimi 5 Perché? Io al momento non ne sto facendo mezzo Scusi? Li stai facendo tutti tu Ne ho fatto uno Non ci potevamo vedere in un parco? No Come fanno tutti? Oppure tipo in quei palazzi Nei vicoli nascosti? No in mezzo al mare Pensavano che fosse una buona idea farlo in mezzo al mare a quanto pare Decisamente Contenti loro Vai di sicuro qua non c'è pulizia Su quello possiamo stare tranquilli Allora quello Ok le 10 consegne abbiamo fatte Adesso bisogna salire in quest'altra barca Al volo Ma manco per sbaglio Cambiamo ancora 17 minuti Quindi dovremmo farcela abbastanza in relax Nel mentre è passato talmente tanto tempo che è diventato giorno Proprio per farvi capire da quanto tempo siamo qua Allora il primo checkpoint Ci sono Aspetta Ciao Non mi aspetta Pensavo di poter venire con te Ho detto adesso lo raggiungo Mi aspetterà di sicuro Sì certo E invece sei un traditore Certo Stef è un galantuomo Sei un traditore Vabbè ti seguo dietro Oh no Capito Come uno stalker rimango dietro di te a fissarti Potresti allontanare i nostri venditori Voglio dire una cosa interessante Che in questo episodio andremo anche a comprarci un bel po' di armi nuove Dato che la prossima challenge che faremo Sarà di arrivare come ci avete consigliato nei commenti A 5 stelline E cercare di resistere per il più tempo possibile Sì questa è una delle challenge che ci è stata consigliata di più Faremo praticamente delle ricompense Sempre più alte in base a Arrivare 5 stelle Prima ricompensa Durare 5 minuti con 5 stelle Seconda ricompensa Terza ricompensa Tipo durare 20 minuti a 5 stelle Quindi abbiamo bisogno di armarci tantissimo E ci facciamo lo shopping di armi in questo episodio Così vedete tutto quello che ci compriamo E credo che sia divertente Vederci fare un po' di shopping Voglio un lanciarazzi Vero? Sì Mi sono stancato così la prossima volta che vedo qualcuno qui caccia Mi fermo e lo distruggo io Perché mi sono stancato di non riuscire mai a difendermi 66 mila dollari E vabbè che bello Abbiamo preso anche i bonus quindi Sì Ora sì che si ragiona con i soldi Bellissimo Allora forte domanda Hai guadagnato denaro bonus per aver venduto merce in una sessione in cui sono presenti i giocatori rivali Questo bonus si basa sul numero di giocatori presenti nella sessione durante la vendita E sull'aumentare di merce venduta A proposito di questo ci tengo anche a dire una cosa che ho letto nei commenti Oddio sta andando addosso alla casa Praticamente molti ci hanno detto ma non potete fare queste missioni in una sessione privata No non si possono fare perché ovviamente sì puoi giocare per i fatti tu nella sessione privata Però queste missioni non si avviano Devi per forza essere in una pubblica Esattamente ci abbiamo proprio provato nel dubbio Quindi oltre a rinunciare al bonus proprio non parte Quindi in nessun modo Sei proprio costretto a stare in quella pubblica con i player che ti rompono le scatole Esattamente Adesso torniamo nel nostro posto delle banconotte E ci facciamo una bella missione per prendere nuove scorte Io ho fatto una sola volta per ora le scorte delle banconotte Ok E ho dovuto rapinare una banca Wow Quindi direi che Ho proprio di cattiveria Ci aspetta qualcosa di divertente Sì è proprio niente mani in alto Sono andato e ho ucciso due guardie sparandole a fucile a pompa Quindi è la missione giusta per te Ti divertirei di sicuro Sì moltissimo Come ne ho detto Non dobbiamo rapinare una banca Ma dobbiamo uccidere dei ladri professionisti Che credo che abbiano appena rubato quelle banconotte È giusto allora ucciderli Noi le vogliamo rubare a delle persone che le hanno già rubate Sopriamo Robin Hood guarda No non proprio Robin Hood rubava ai ricchi Noi stiamo rubando ai ladri Però allora in questo momento sono ricchi Capito? Funziona Funziona Noi siamo i ladri dei ladri Esatto I ladri dei ladri Perfetto mi piace un sacco È un titolo bellissimo Vedi ho trovato l'hashtag Ferrenichi È Steph Ladri dei ladri Ma bastava ladri dei ladri Senza Steph e Ferrenichi Guarda Oggi non sei in forma con gli hashtag È meglio che sei zitta Ma era bellissima No è meglio che sei zitta Secondo me oggi Non sei in forma con questi hashtag È meglio che non ne lanci più Per tutto l'episodio Ok? Va bene Non lancerò tantissimi È meglio per il bene dei consolini Adesso me l'invento tutto il tempo Quindi non mi provocare Verrei che ti faccio schiantare su un albero Guarda che poi muori anche tu E perdi la missione Cos'è? Oddio Ok Ok Mi metto in questa montagnetta licecchino Sì tranquillo Io sono sopra una piscina Pam Che licecchino adesso Pam Ho trovato la postazione perfetta Io sono dietro una montagnetta Cioè non ci crederei mai Ne ho ucciso tipo già 4 Sì ne ho visto uno modellino adesso Sei molto brava Ne ho visto uno lì nascosto L'ho colpito Ok 5 Ok è morto Ce ne sono altri? Sì aspetta Ok Ok c'è chinato L'ho ucciso quello? Sì E mi sa che abbiamo finito Io non ne vedo altri Secondo me ce n'è un ultimo Sì Aia Geronimo Si stava rialzando Il disgraziato Ascolta prenditi i soldi e le munizioni Che sinceramente Geronimo Schifo non ci fanno Ci sta dando un sacco di snack Stiamo lemosinando Dai ladri Sì Esplosioni e collisioni Danneggiorando le scorte Sì lo sapevamo Grazie per averci avvertito Allora aspetta Vai esci Ok vado Mi raccomando non ti schiantare Per una volta nella vita guida bene Allora io già non riesco a uscire da sto posto Perché è così stretto? Lo so Però ti chiedo solo di concentrarti E di fare una buona guida Ok Perché se ci portiamo tutte le scorte a casa Facciamo tantissimi soldi Abbiamo un problema Stanno arrivando altri ladri professionisti No Sì Ok Mi ha ammazzato Ce l'hai fatta? Mi ha investito un NPC Ma dai Eh capita Capita Aspetta non ne vedo altri Ma mi ha proprio ucciso con un colpo secco Non ne stanno arrivando altri Aiuto E io sono cascato da una montagna Aspetta li uccido Li uccido Li uccido Li uccido No fanno troppa paura Ma sei matto Non è possibile Cioè non solo dobbiamo pensare ai player Ma pure a questi Ci sei? No sono caduto da una montagna Ho iniziato ad andare Mi dispiace però Aspettami Qualcuno queste scorte le deve pur portare Non riesco a risalire Stiamo arrivando e novinate chi ha fatto più danni al veicolo Ferenichi Non è vero Sì guarda Non l'ho spattuto da nessuna parte Guarda in basso a destra E allora è perché mi hanno sparato Esatto Quando da me sono arrivati E dove mi è stato per difenderti scusami Ho avuto la prontezza di scendere dal mio veicolo e spararli In modo tale che non sparassero il camioncino Ma io li ho sparati Tu invece non ci hai pensato Perché se ne afferenissi Allora ringrazia ringrazia che ti ho salvato Altrimenti ti lascio a voler morire Guarda La prossima volta ti lascio a voler morire Ma cos'hai salvato Disgraziato Ce l'ho fatta Bello bello Scusi Oddio mi stavi per investire Ma chissima aiuto Compriamoci un po' di armi Ok bello Come budget magari ci impostiamo I 70.000 che ci siamo guadagnati Ok Vero? Mi sembra Non male come idea Allora buongiorno Ti dicevo il mio momento preferito della giornata Questo è il momento proprio più bello Non dovresti dirlo cara In cui io divento super felice Allora lancia razzi Quanto Eh vabbè Allora fammi partire comprando Costa 75.000 solo quello Oh mamma mia Sto piangendo Io parto comprando le munizioni per la carabina speciale Perché non so come li ho finiti Ogni tanto mi scompaiono me le munizioni Devo essere sincero Anche a me lo fa Non so perché Boh Ma non me la sono sempre chiesta Carabina speciale Ho 4.000 proiettili pronti per la polizia Stanno andando anche io di munizioni Credo che andranno bene Poi Allora lancia missili Sì c'è questo che costa 75.000 Cioè non ce n'è un altro Non credo Non credo Dai concediamoci sto Lancia missili su 10 Sì mi sono anche riempito i missili Mamma mia quanto l'abbiamo pagato Il giubbottino antiproiettili dov'è? Qua? Vediamo un attimino Sto spammando munizioni Come se non ci fosse un domani Eccoli i giubbotti antiproiettili Allora 100 No 200 Standard Super pesante 1 2 E 3 Comprali altrimenti non ce li hai Sto ancora scegliendo Sai com'è? Il momento che mi piace di più Lascia e mi guarda le armi Sì ma spiegami cosa sei È come se porti una ragazza in un negozio di vestiti Cosa fai? Le fai vedere la roba per 5 minuti E poi la mandi via Sì ma stai guardando fucili a pompa Per me funziona così per le armi Eh certo Io non ce l'ho il fucilio a pompa Anzi ce l'ho e mi devo rifornire Capito? Eh sì Guardate che meraviglia Un po' i capelli lo coprono Per una banconota da 100 dollari qui nel collo Che sono le banconote contrafatte Che oggi sono bruciate Esplodendo con il jet Quindi per non dimenticarle Me ne tattuo una sul collo Perfetto Per fortuna non ti si vede Perché è il collo del cappotto Comunque ci fermiamo così per questo video Nel prossimo video Quindi faremo la challenge Dove cercheremo di resistere Per più tempo possibile Con le 5 stelline Sarà difficile ma davvero interessante Dobbiamo ancora decidere Quanti soldi mettere in palio Esatto E perché cosa Però abbiamo ancora qualche giorno per decidere E dopodiché Ci sarà un altro episodio Dove continueremo con l'ufficio Dove appunto come promesso Avremo parecchie scorte E cercheremo di vendere Almeno un valore da 100.000 dollari Che sarà una roba tostissima Ci inseguirà a metà server E la voglia Esploderemo malissimo Ma ci proveremo Per ragazzi Se non ci vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!